La posizione della regina arriva fino a un certo punto, poi i difensori hanno i pertanti manovre, in questo caso Antanasov, prova a pescare in profondità all'Ivier, sedisce, lì si suona, gli aree verso il centro, De Francesco serve il movimento dei compagni, il taglio di Oggiano, colpisce molto male, il quinto numero 6 della regina, Oralli si sbraccia, riceve dal sfero, De Francesco, L'altra idea è sempre, il De Francesco è un profondità, questo è un po' giallo, il terzo, il patato, adesso l'ho segnato, la posizione di Mielo, arriva fino a un certo punto, il pallone sul finito, il sottile, dopo il rimetto di questo, poi i quartieri, Oralli con la pelle velocità, dall'alto non lo tiene, Oralli, Oralli si vede fatti con un'alto, 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 De Francesco, il giro, il segno della posizione di Mielo, Matteo Mielo, il rischio, il partito di Mielo, Oggiano, è giunto da una deviazione, riesce a rifugiarmi in calcio d'angolo, il portiere della regina, 34esimo del primo tempo, forse questa è la più grossa occasione del match, calcio di punizione di Mielo, deviato, recettente dalla bambiera, Sala, che va andando a coprire, la distanza siderale, parte Mielo, la botta col finissimo, Mielo, Salah? La nobe! Llogos infatti! Llogos infatti! Llogos infatti! Scriviti al nostro canale Non poteva esserci esordio peggiore per lui, anche se ovviamente non ha colpe in questa circostanza. 1-0 per la Juve Stadia, gol di Vigliero con l'esterno sinistro, è stato il primo ad arrivare sul pallone, a smaricare con forza in rete il pallone. Nella porta sotto il settore osti. 1-0 per la Juve Stadia, gol di Vigliero con l'esterno sinistro, gol di Vigliero con l'esterno sinistro, gol di Vigliero con l'esterno sinistro. 1-0 per la Juve Stadia, gol di Vigliero con l'esterno sinistro.